Ciao ragazzi, siamo qua all'attacco della ferrata dell'Ammoria, siamo sediti da Longarone e siamo al paese di Vajont, appunto una ferrata che si pronuncia comunque interessante con un primo tratto laterale, poi molto verticale e poi insomma di nuovo laterale. Siamo in tre, siamo io, Leo, che riprende grazie per il supporto tecnico e Bon Davide che si è studiato la storia del Vajont, di cui mi ha anticipato qualcosa in macchina e poi durante la ferrata insomma ci racconterà se avrà fiato. Questo è molto importante, se avrà fiato. Andiamo! Andiamo! Bello! Forse qui è già da caschetto per essere sicuri di non cacciare il cronio. Ore 11, iniziamo! Guardate come un po' guarda. Sì, sì. Lì qua! Qua qua che è una. Opa la la! Ancora Sai cosa devi scantare? Eh Il mio corpo che cambia Però tornando alla luna foto Eh cazzo però veramente E poi è stato romantico Sì ma poi non devi impressionare nessuna Vorrei Mamma mia è partito È partito Ha chiuso gli occhi addirittura Vorrei Cellare ciò Ciò Mi butto giù eh Cioè io lascio la presa te lo dico Ah ok Cioè adesso sono obbligato a prendere l'accendino Capito Ok No Ciao Quante oce avevi in quella o Oh Top 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 Lo